cari amici in cristo vi saluto nel prezioso nome del signore ovunque voi siate il paese la razza non fa differenza dio è il dio di ogni carne e la promessa già fatta ad abramo che dio avrebbe benedetto tutte le nazioni e secondo atti degli apostoli capitolo 15 lui avrebbe preso un popolo da tutte le nazioni per il suo nome prima di rivolgersi nuovamente a israele e ora stiamo sperimentando che il vangelo del regno viene predicato a tutte le nazioni e assolutamente al di là di ogni aspettativa quello che i miei occhi hanno visto nel corso dell'ultimo anno e anche nel mese di gennaio siamo stati in pakistan a dubai e le porte sono aperte praticamente in tutte le denominazioni dall 11 settembre 2001 nulla sembra essere più come prima e poi naturalmente dal 7 ottobre 2001 quando gli stati uniti d'america hanno iniziato i loro bombardamenti e la loro guerra contro il terrorismo noi possiamo capire questa reazione ma dal punto di vista scritturale non è giusta perché avremmo dovuto dire padre perdona loro perché non sanno quello che fanno questo è il tempo della fine e tutto ciò che è stato promesso e predetto nelle scritture deve realizzarsi anche ora con l'unità europea abbiamo la foto dei 12 capi di stato dei 12 paesi che hanno aderito alla moneta unica dal primo gennaio 2002 ora possiamo pagare con la stessa moneta in spagna e in grecia in finlandia e in irlanda a parigi a roma a berlino ad amsterdam ovunque possiamo pagare con la stessa moneta le fondamenta dell'europa unita sono state gettate l'inizio è stato fatto e tutte le altre nazioni dovranno unirsi molto rapidamente per formare l'ultima potenza mondiale secondo il profeta daniele capitolo 2 e capitolo 7 siamo dunque entrati in una fase del tempo della fine che è di grande importanza non abbiamo il tempo per entrare nei dettagli di questi sviluppi tuttavia cari fratelli e sorelle noi guardiamo a queste cose perché la profezia biblica si sta ora adempiendo sotto i nostri occhi siamo una generazione privilegiata e come coloro che credono all'intero messaggio conoscono il ministero di william brana sappiamo che quest'uomo di dio non è stato mandato solo dopo la seconda guerra mondiale per dare il via al più grande risveglio di guarigione e di salvezza che la terra abbia mai visto lui è stato utilizzato da dio per riportarci agli insegnamenti scritturali alle dottrine apostoliche a una restaurazione di tutte le cose e io credo con tutto il cuore alla testimonianza di william brana al quale fu detto come giovanni battista è stato inviato per precedere la prima venuta di cristo tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di cristo dio ha preso tutti i suoi profeti tutti i suoi apostoli compreso il fratello brana ma la parola rivelata a loro è con noi e abbiamo in questo tempo la rivelazione dell'intero consiglio di dio come mai prima nella storia dell'umanità anche in questo fine settimana il primo sabato e la domenica di febbraio dell'anno 2002 abbiamo sperimentato la presenza del dio onnipotente è meraviglioso conoscere il signore personalmente non solo parlare di un profeta è molto facile come lo era ai giorni di cristo che gli scribi si erano seduti sulla cattedra di mosè sempre a dire il profeta ha detto il profeta ha facevano persino le affermazioni conosciamo abramo e il signore disse se conoscesse abramo conoscereste me se conoscesse mosè conoscereste me cari è giunto il tempo di non predicare mosè o abramo pietro o paolo o persino il fratello brana noi predichiamo gesù cristo lo stesso ieri oggi è in eterno e condividiamo l'intero consiglio di dio tutti i misteri che erano nascosti nella parola dalla genesi all'apocalisse li condividiamo con tutta la terra e questo potrebbe interessarvi il signore sta aprendo le porte attraverso il ministero televisivo e come titolo abbiamo scelto ministero apostolico profetico della bibbia io non sono qui per dirvi le mie opinioni sono qui per condividere la parola originale di dio con gli abitanti della terra quindi cari continuate a pregare per me e per questo ministero mondiale ordinato da dio io e valde frank posso mettere la mia mano destra sul mio cuore posso dire in tutta sincerità che queste orecchie hanno udito la voce potente penetrante di comando del signore il 2 aprile 1962 tra poco saranno 40 anni e a motivo di questo incarico divino devo andare di città in città e di nazione in nazione per condividere la parola rivelata di dio con il popolo di dio su tutta la terra e proprio in questi giorni abbiamo finito di preparare tutte le strutture dove poter effettuare le nostre registrazioni con i luoghi speciali che dio ci ha messo a disposizione cari che dio vi benedica che egli sia con voi e i miei vecchi fratelli nel servizio condividono la stessa parola di dio con le loro congregazioni nei loro paesi e che le benedizioni di dio riposino su ciascuno di voi nel prezioso il nome del signore gesù cristo amen